Grazie per aver aderito a questo progetto. La Diocesi di Senigallia ha sottoscritto nei giorni scorsi un protocollo d'intesa con i comuni e le parrocchie di Castellione di Suasa, Corinaldo e Mondolfo, con lo scopo di valorizzare il territorio della Valcesano in chiave turistica, culturale e religiosa. L'accordo si prefigge di istituire un tavolo di lavoro permanente per realizzare varie iniziative partendo dalla necessità di migliorare l'accessibilità a tutte le persone, dei luoghi di culto, dei poli museali e dei beni storico-architettonici. Il valore sta nella qualità del progetto. Si parla di accessibilità, rendere accessibile un bene o tanti beni a tutte le persone. Valore sociale anche perché a questo progetto concorrono diverse realtà. La Diocesi, amministrazioni comunali, quindi è un farci carico insieme di un progetto, non è appalto di una sola realtà. Un protocollo d'intesa nel quale ci sono diversi temi che sono di grande attualità. Il turismo lento, il turismo sostenibile, la valorizzazione del patrimonio artistico e culturale, l'abbattimento delle barriere architettoniche, quindi l'accessibilità nei luoghi storici, artistici e culturali. E quindi davvero un protocollo d'intesa che ci permetterà anche di lavorare insieme, di squadre, e anche di partecipare ai futuri bandi che si presenteranno, regionali, ministeriali ed europei, per intercettare fondi e migliorare quindi i nostri territori e i collegamenti anche tra i comuni. Sia un punto di inizio futuro per uno sviluppo intero della nostra comunità, dal punto di vista turistico. Ovviamente il turismo coinvolge poi le attività produttive, economiche del paese, le attività culturali. Ecco, Corinaldo ha questa fortuna di avere anche un movimento molto fiorente delle varie associazioni culturali, sociali, e quindi ecco un intero sistema del paese che si deve muovere, e questo grazie all'Itere Suasarno oggi darà una nuova visione in prospettiva futura. L'area archeologica che diciamo farà da Traino ne subirà benefici e porterà sicuramente, oltre che il turismo classico, ecco anche il turismo della disabilità, ma anche il centro storico di Castellione ne avrà dei benefici, soprattutto per quanto riguarda il museo, ma per quello che è anche la chiesa di San Francesco di Paola, con il convento, oggi sede del comune, per cui diciamo che Castellione da questo progetto ne ricaverà sicuramente dei benefici sotto tutti i punti di vista. Il territorio di Cesano è molto ricco per quanto riguarda la cultura, con tanti siti storici e religiosi, ma anche in termini ambientali. Ampliarne la fruizione non ha solo lo scopo di sviluppare un turismo lento, consapevole e sostenibile, ma svolge una funzione sociale. In questo senso va il progetto sviluppato concretamente dalla Cooperativa Sociale Undicesima Ora, in vista dell'imminente anno giubilare indetto per il 2025. Tra le prime iniziative che verranno messe in campo ci sarà lo studio del progetto Iter Suasanum, un cammino tra storia e fede che coinvolgerà i suddetti comuni, enti e parrocchie, con una particolare attenzione alle persone più fragili, anziane o con disabilità fisiche, cognitive, visive, uditive. Un'accessibilità a 360 gradi, con uno sguardo più attento e più umano. Quindi questo ci auguriamo. Non solo che riusciamo a realizzare questo itinerario, questo Iter Suasanum, ma soprattutto dentro questo progetto ci sia un cammino educativo per le nostre parrocchie, la nostra diocesi e per i comuni con i quali oggi abbiamo firmato questo protocollo. Devo dire grazie che mi è stata data questa possibilità.